Un progetto di resistenza, frutto dell'immaginazione applicata all'urbanistica. Si chiama Il color che muove il mondo ed è vincitore della terza edizione del bando Creative Living Lab, promosso dalla Divisione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Il progetto, il cui responsabile scientifico è l'architetto Tommaso Di Biase, riguarda tre luoghi identitari della città di Pescara, Borgo Marino Nord, Borgo Marino Sud e l'area della Madonnina. La rigenerazione è stata pensata inserendo piccole foreste e diversi spazi sociali, ma anche prevedendo soluzioni abitative ultramoderne e qualche demolizione. Parlando di resistenza, ancorché urbana, si spiega la ragione per cui l'associazione capofila è Lampi. Lo slogan del progetto è la resistenza urbana. La memoria non può essere una cosa fine a se stessa, che guarda soltanto al passato. La memoria ha senso quando riguarda il presente e guarda il futuro. Per cui nel momento in cui si parla di identità, si parla di storia, si parla di queste cose qui, e di riqualificare, quindi resistere all'interno di un contesto che è in pieno degrado, e quindi renderlo vivibile, secondo me siamo all'interno di tutto un discorso che fa parte anche della nostra carta costituzionale. La cosa più bella, secondo me, di questo progetto è la condivisione, la rete che si è creata, che parte sostanzialmente dal territorio, dal basso, ed è la vera cosa rivoluzionaria. Quindi una proposta che viene lanciata alla comunità pescarese, all'amministrazione del nostro comune, basata su un qualche cosa di diverso. Abbiamo pensato di rigenerare questi luoghi, al centro dei quali ci sta il fiume Pescara, come è stato detto, che è il porto canale, che è una delle cose più identitarie di Pescara. A Borgomarino Sud abbiamo pensato, ma anche a Borgomarino Nord, l'accoppiamento è tra ipotesi di risparmio del suolo, torri, anche se sono torri minime, piccole e foreste. Questi due elementi messi insieme ci permettono, ci hanno permesso di ipotizzare la creazione di spazi di relazione all'interno di questi luoghi, spazi di relazione comunitarie, attraversamenti, porticati, spazi liberi.